buongiorno e benvenuti al mio canale gli echo show di amazon quelli appunto con lo schermo non hanno la connessione ethernet cioè non hanno una porta ethernet una porta rj45 per appunto collegare questi echo show a ethernet ma funzionano solo con lo wifi questo è il più costoso di tutti credo anche l'ultimo echo show 15 si va in basso sulle specifiche si vede che la connettività è solo wifi ecco le quali specifiche di connettività solo wifi non c'è la connettività con ethernet cioè con il cavo questo cosa significa significa che se noi nello wifi di casa abbiamo collegati diversi smartphone magari altri dispositivi e chiaramente può essere che vada in interferenza un dispositivo con l'altro e vi sarà capitato certamente di avere magari dei cellulari che smettono di collegarsi al wifi e magari si collegano con la rete mobile quando questa rete mobile è disponibile perché in molte case magari è un po assente allora qual è il problema il problema appunto è quello di connettere gli echo show con il cavo ethernet questo è possibile con un adattatore prodotto alla stessa amazon e allora passione non c'è la porta ethernet per la porta appunto per il cavo ethernet ma c'è un'altra porta che una porta micro usb io per esempio un eco show 5 di seconda generazione in cui c'è la porta micro usb ma c'è credo anche in tutti gli altri eco show anche se questa porta micro usb non si sa bene cosa serve può essere utilizzata per collegarci il cavo ethernet ovviamente con degli adattatori appositi io ho testato che funziona perfettamente e utilizzo proprio l'adattatore di amazon questo adattatore qua che è pensato originariamente per il fire tv stick questo è l'adattatore qui ci sono tre immagini che in effetti ha una entrata con due porte la porta appunto per il cavo ethernet e la porta appunto micro usb per l'alimentatore e un'uscita appunto che sempre quelli micro usb in questo modo però qual è il problema che l'alimentatore degli eco show non ha la porta micro usb di uscita ma una porta diversa quindi per poter far funzionare questo adattatore si inserisce naturalmente la porta ethernet ma questa porta qua di micro usb rimane vuota e allora per farlo funzionare bisogna aggiungere un altro alimentatore l'alimentatore che ho trovato è questo che è un alimentatore su cui si può scegliere il voltaggio tra 3 a 12 volt il voltaggio usato da amazon di 12 volt qui come vedete c'è questo strumento che si può passare da un voltaggio di 3 a un voltaggio di 12 volt e qui c'è anche un adattatore vedete ci sono tutti gli adattatori di questo strumento e quello che ci serve appunto è l'adattatore micro usb per poterlo inserire in questa porta qua quindi qui si inserisce un alimentatore qui si inserisce il cavo ethernet e qui l'uscita si inserisce nella porta micro usb del eco show con questo collegamento si può collegare il nostro eco show a internet tramite appunto cavo ethernet sollevando lo wifi da questa incombenza che naturalmente può danneggiare gli altri dispositivi collegati e adesso passiamo a vedere di fatto come sono fatti questi dispositivi questo è l'apple show 5 qui dietro c'è la porta usb micro usb questa è la porta naturalmente per l'alimentatore e qui c'è la porta micro usb in cui inserire il nostro collegamento con ethernet adesso vediamo gli altri strumenti gli altri dispositivi questo è l'adattatore come vedete ci ci sono due ingressi uno per la porta ethernet e uno per la porta micro usb però la porta d'ingresso micro usb deve essere inserita tramite un altro alimentatore perché è diverso da quello del dell'eco show e questo è l'alimentatore eccolo qua come vedete qui c'è questo strumento per passare da un voltaggio a un altro nel caso di amazon bisogna scegliere il voltaggio di 12 volt qui come uscita dell'alimentatore ci sono degli adattatori che si possono scegliere appunto sempre nel nel pacchetto io ho scelto appunto l'adattatore per porta micro usb questi sono gli adattatori dell'alimentatore quello che ho inserito è appunto l'adattatore per micro usb chiaramente si può cambiare vedete questo è lo spinotto originale qui si mette l'adattatore per micro usb insieme a questi adattatori qua c'è anche questo strumento questa una specie di cacciavite questo cacciavite cosa serve serve per appunto impostare a 12 volte qua così si vede la tensione vede che si sposta cresce al 9 sulla sua strada a 12 volte e adesso vediamo come procedere a lato pratico al collegamento io ho collegato ecco show tramite wifi questo quindi è l'epo show collegato con lo wifi però ho già per disposto il collegamento con l'amplificatore ausiliario a sua volta collegato con il l'adattatore con il cavo ethernet l'amplificatore ausiliario e l'adattatore più l'uscita che ho sempre una micro usb che io andrò a collegare al all'epo show nel retro dell'epo show adesso vediamo la situazione attuale io adesso chiedo alexa mostra le impostazioni ecco le impostazioni come vedete è collegata con una rete wifi ci tocco sopra è collegata con questa rete wifi che è la mia appunto e adesso alexa torna alla home io sposto l'eco show per collegarlo all'adattatore e quindi al cavo ethernet e collego la rete ethernet via adattatore l'ho collegata adesso io vado sempre come prima alexa mostra le impostazioni ecco le impostazioni come vedete rete non c'è più lo wifi ma c'è via cavo come vedete è il collegamento è via cavo cioè io ho collegato l'ecosho via cavo ethernet con quel collegamento che vi ho fatto vedere con un alimentatore ausiliario e con un adattatore da ethernet a micro usb prodotto dalla stessa amazon che si inserisce appunto nella porta micro usb degli eco show se avete un eco show con una porta micro usb probabilmente in tutti e cosciò c'è una porta micro usb ci potrà appunto per personare questo collegamento per liberare lo wifi dalla scomoda situazione di dover sopportare anche il flusso dati dell'eco show e questo è tutto alla prossima volta